Nasce con Fratelli d'Italia, Torre del Greco, la prima scuola di formazione politica, con l'intento di fornire conoscenze e competenze ai cittadini sulla vita politica ed amministrativa. Un'idea che nasce da un lavoro di squadra e dalla condivisione di valori, come ha sottolineato ai microfoni di TV Siti il coordinatore Aria Migliodoro, Salvatore Quirino. Sarà un luogo di confronto per i cittadini. È giunta alla fine di un percorso di crescita che abbiamo raggiunto attraverso un lavoro di squadra eccezionale, dalla condivisione di esperienze, dalla condivisione di valori e dalla condivisione di tutta una serie di vicissitudini che siamo arrivati qui. Una squadra, un gruppo che mira ad aggregare altre persone sulla base di esperienze relative al vivere civile e come ognuno di noi, attraverso il proprio apporto alla collettività, possa mutare quelle che sono l'esortio e i destini che ognuno di noi pensa che possono essere immutabili. Un percorso formativo dunque, ispirato ai valori e ai principi liberali, su temi nazionali ed internazionali, al fine di creare una nuova classe dirigente che faccia della competenza il suo tratto distintivo. Non tratteremo lezioni accademiche, ma affronteremo le domande e le incertezze che tutti noi proviamo ogni giorno quotidianamente su uno scenario locale, nazionale e internazionale. La scuola non vuole fornire un addestramento nemmeno specifico per quelli che saranno le carriere politiche o amministrative. Vuole fornire soprattutto un luogo dove ci si può confrontare e lo scopo primario è l'aumento quantitativo e qualitativo del sapere relativo alla politica attraverso l'esercizio della discussione razionale tra persone su materie politiche. La prospettiva è quella di preparare cittadine e cittadini meglio forniti di strumenti conoscitivi e motivazioni per partecipare alla vita politica ed istituzionale. Noi possiamo avere un futuro migliore se le nuove generazioni, se le generazioni più giovani portano con sé quella forza, quel senso di appartenenza, quella iniziativa che contraddistingue un viver civile fatto di conoscenza. Ad aprire il primo ciclo di appuntamenti è stato il professore Antonio Sannino con un intervento sui principi generali della Costituzione e la loro declinazione nella realtà. Qualunque scuola di formazione politica parte dall'aggettivo politica, è ben risaluto, politica, polis, quindi facciamo riferimento a tutto quello che tiene a una collettività di riferimento. La collettività di riferimento può essere territoriale, può essere regionale, può essere nazionale. Per ciascun di questi livelli c'è una decisione politica. È politica quella decisione che attiene agli interessi di un'intera collettività. La scuola di formazione politica probabilmente deve tener conto del quadro giuridico di riferimento. Il quadro giuridico di riferimento, le norme. Le norme non hanno tutte la stessa rilevanza, un regolamento comunale certamente non ha la stessa importanza di una norma costituzionale e quindi è inevitabile trarre le mosse dallo studio, dall'analisi, dall'avvicinamento alla Costituzione italiana. La Costituzione è un testo sacro, nel vero senso della parola, perché svolge una funzione di garanzia. Se non conosciamo e comprendiamo la Costituzione non ci rendiamo conto di quanti diritti e quanti istituti giuridici, anche nella civilissima Italia, perché alla fine viviamo in un paese civile, se ci guardiamo intorno, tendiamo a lamentarci, ma comunque è un paese meraviglioso, il nostro anche dal punto di vista istituzionale, però quante cose sono ancora inattuate. Entusiasta per l'iniziativa, anche Ciro Borriello, intervenuto alla serata. L'ex sindaco all'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia aveva ufficializzato la sua candidatura. È la prima volta che vedo un'iniziativa di questa Torre del Greco e quindi va fatto vanto a Fratelli d'Italia, a Salvatore, a Luca, che sono stati i propulsori di questa idea. Credo che è una cosa fantastica, perché quello che manca soprattutto da quando sono crollati i partiti della Prima Repubblica è mancata proprio la politica. Oggi ci si arriva proiettato in Parlamento, perché si fa parte di certi cordati o si è amici del gruppo dirigente del momento. Mentre nei partiti della Prima Repubblica si cominciava da consigliere comunale. E questo ti spiega anche molto spesso, perché le leggi della Prima Repubblica molto spesso erano più funzionali e più vicine ai cittadini, perché partivano dalle richieste dal basso. Qua a Torre del Greco, con Fratelli d'Italia, nasce una scuola di politica, è un'idea fantastica. Non mi rendo ancora conto che possa essere vero. Spero che poi diventa vero nel senso che ci sia quotidianità di questa cosa. Io credo che una scuola di politica possa far cominciare a capire anche la dignità dei valori, delle idee, di qualcosa che si sta perdendo. Credo che sia una grande opportunità questa qua. Spero che Salvatore e Luca e tutti quanti voi riuscite a trasmettere questa cosa, non solo a quelli che appartengono o si sentono vicini, ma a tutti. Le elezioni si terranno tutti i venerdì dalle 19.30 alle 20.30.